Ciao ragazzi, questo è un video registrato nell'ospedale di Barranchilla, in Colombia. Questa donna accusa il medico di essere un bugiardo, accusa il medico di dire bugie, accusa il medico di stare lì e di uccidere la gente. Chiede al medico perché ha falsificato la cartella clinica del padre, perché c'è scritto che il padre aveva febbre se il padre non aveva febbre. Chiede al medico di darle la prova. Di darle la prova che il collega le abbia veramente detto questo. Di dargli la prova che il padre avesse veramente la febbre. L'unica cosa che gli dice il medico è che è proibito girare i video. E lei gli dice di no, che è stata la polizia stessa a chiedere di filmare la negligenza che c'è stata. Lei gli ricorda che lì è morto suo padre. Incita tutti a guardare bene in faccia questo dottore, a guardare bene in faccia le infermiere. Il dottore a questo punto gli toglie il telefono con violenza. La donna accusa il medico di averle messo le mani addosso. Continua a inveire contro il medico e ad accusarlo di essere un bugiardo, di continuare a dire bugie. Gli ricorda che è un reato penale, mentire sulla cartella clinica. Chiede al dottore di avere un po' di coscienza, di rispettare una persona che ha appena perso un familiare. Gli ricorda che queste cose non si fanno, continua a chiedergli perché, perché continua a mentire. Suo padre non aveva febbre, non aveva il medico un bugiardo. L'ho portato qui, l'hanno soccorso dopo un'ora. E' normale, è normale che sia morto. Mio padre è morto di infarto. E' morto di infarto, non è morto di coronavirus. Tutto il mondo deve saperlo. Tutto il mondo deve saperlo. E non portate i vostri familiari qui. Non li portate qui perché questo dottore e queste infermiere li lasceranno morire. E' morto di infarto, non è morto di infarto.